Parliamo di questo incontro per me indimenticabile, emozioni profonde, un Papa di altissimo livello che passerà alla storia, che in pochi minuti parlando del ruolo dei sindaci ha saputo cogliere l'essenza della profondità della missione che ci accompagna ogni giorno. Poi siamo stati anche un po' con lui, ho avuto la possibilità di stringere la mano, guardarlo negli occhi è veramente un Papa di una profonda umanità che sa cogliere la sensibilità delle persone quindi veramente una giornata straordinaria e sono veramente fiero di aver rappresentato la mia città davanti al Santo Padre e aver ottenuto una sua carezza e un suo sorriso per poter andare avanti in missioni così complicate.